Telnet Systems, vendita, installazione e manutenzione di centralini telefonici, fibre ottiche, videosorveglianza, sicurezza di rete e networking. Richiedi subito un preventivo. Telnet Systems, via Tazio Nevolari 53, Carraia, Lucca. Telefono 0583 98 33 22, www.telnetsystems.it Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS In questa puntata Top 10 Camera Car, 32esimo, Rielli del Cannevale Grazie a tutti i nostri spettatori e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti i nostri spettatori e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti i nostri spettatori e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti i nostri spettatori e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. La scuderia Ballesterio è riuscita a mettere in piedi una degna edizione di questa manifestazione. In più, la validità per il nuovo campionato Evo Rally 2013 ha portato al Lido di Camaioro un plateau di vetture e piloti di tutto rispetto provenienti da tutta Italia. La gara di Pezzi è scorsa abbastanza tranquilla con solo due interruzioni. Una a causa dell'incidente occorsa l'equipaggio di Giovanni Liburdi su Peugeot 206, che è andato a spattere contro una quercia a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia, e l'altro corso in trasferimento verso la PS Pascoso occorsa all'equipaggio Lucchesi Baldacci, che si sono scontrati con un burgoncino sulla stretta strada che porta verso l'inizio PS. Il suo avvento, ma nessun danno per entrambi gli equipaggi. La gara è partita venerdì sera con la disputa della prima prova speciale a Pascoso, poi è ripartita sabato mattina sotto un'insistente pioggerellina, poi nel primo pomeriggio il sole è tornato a risplendere, lasciando però un asfalto ancora più impegnativo, dove i piloti sono stati messi a dura prova nella scelta dei pneumatici ideali. Il suo avvento è un'insistente pioggia, il suo avvento è un'insistente pioggia, lo scontriقile, la metà della scelta di pietra. Il vostro avvento è un'insistente pioggia, il suo avvento è un'insistente pioggia, Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. 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 Top 10. Grazie a tutti. 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 vai? Vai. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. chiude. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. sinistra. e a tutti. e tutti.